Ieri per il generale ingegnere Carlo Metelli, comandante provinciale dei Vigi del Fuoco di Reggio Calabria, è stato l'ultimo giorno al comando provinciale, prima di essere trasferito a Roma per assumere un importante incarico. Carlo Metelli sarà vicario nella direzione nazionale per gli interventi di salvataggio, una nuova mansione prestigiosa che lo vede insediarsi direttamente nella sede del Viminale. L'ingegnere Metelli ha voluto salutare tutti gli staccamenti della provincia di Reggio Calabria, tra gli altri era presente in uno dei più grandi distaccamenti di tutta la provincia, stiamo parlando di quello di Siderno, che tanto ha dovuto lavorare quest'estate per via degli incendi in Aspromonte. Fra poche ore sarà ex comandante provinciale dei Vigi del Fuoco, l'ingegnere Carlo Metelli. Ecco, ingegnere, lei lascia dopo due anni e mezzo di servizio nella provincia regina, lei ha detto in conferenza stampa, lascerà un po' di cuore qua? Sì, certamente lascerò un po' di cuore in questa meravigliosa provincia o area metropolitana come oggi viene definita. Sono stati due anni e mezzo molto intensi, caratterizzati, ahimè, soprattutto dall'esperienza critica dovuta alla pandemia che è ancora in atto. pandemia che ha costretto un corpo che si caratterizza fondamentalmente per lavorare in squadra, quindi fa un lavoro di squadra, noi non siamo mai chiamati come persone, ma siamo chiamati sempre come squadra dei Vigili del Fuoco, ci ha costretto a lavorare con distanziamenti sociali, che è quanto di meno, diciamo così, squadra coincide con le nostre, diciamo, modalità operative. Lei diceva due anni e mezzo che sono state caratterizzate dalla presenza del Covid, i Vigili del Fuoco che, come tutti sappiamo, hanno delle strutture anche abitative all'interno della caserma, tutti assieme e viaggiano anche in cinque anni e mezzo, quindi grande difficoltà operative che però avete ovviamente risolto. I Vigili del Fuoco che, specialmente il presidio di Siderno, ma non solo, vicini alla Spromonte, a interventi importanti, abbiamo visto quello che ha avuto quest'estate e quanto lavoro c'è stato. Ecco, Vigili del Fuoco che comunque si conferma il corpo più amato dagli italiani. Sì, l'Eurispes ha fatto delle indagini sul gradimento delle strutture pubbliche e anche per quest'anno il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha il gradimento più alto tra tutte le strutture. Questo, oltre a gratificarci, ovviamente ci fa capire che la strada intrapresa, cioè quella della vicinanza alla popolazione, una vicinanza che non è soltanto una vicinanza amministrativa, ma è una vicinanza fattiva, diciamo così, se vogliamo dire, anche amichevole, questa vicinanza chiaramente ci è stata ripagata da questi sondaggi. Ovviamente lei prima ha detto una cosa molto importante, quest'anno, questa estate è stata caratterizzata da eventi, da incendi che difficilmente abbiamo ricordato in questa zona, incendi che hanno interessato anche il parco della Spromonte, quindi incendi che hanno avuto oltre che come numero, ma anche una intensità mai registrata da questa provincia. È stata, come dire, ha messo a durissima prova le nostre strutture operative, il personale, devo dire, anche a rischio della propria incolumità, ha lavorato incessantemente anche per turni massacranti, anche superiori a 24 ore, quindi diciamo ci ha messo l'anima, ha fatto di tutto, e se purtroppo non siamo riusciti ad evitare alcuni lutti che hanno colpito la nostra provincia, abbiamo dentro di noi la certezza che comunque senza la nostra opera, senza questa opera così incessante, sicuramente sarebbe stata una stagione che avrebbe visto più vittime come purtroppo è accaduto in altre nazioni europee, come il Portogallo, come la Grecia, dove appunto abbiamo panorami, abbiamo ambienti simili dove, ahimè, durante il periodo estivo ci sono stati un numero di morti ben superiore a quello che abbiamo registrato. C'è un proverbio in Calabria, dice chi arriva in Calabria piange due volte, quando arriva e quando parte. Lei in ogni caso sorride perché avrà anche un incarico molto prestigioso, lascia certamente molti affetti in questa regione, ma avrà un incarico prestigioso al Viminale. Sì, è un proverbio che secondo me è veritiero, è veritiero perché sicuramente una delle caratteristiche mie personali, a questo punto me ne vergogno un po', il primo giorno della mia vita passata in Calabria è stato il giorno che sono venuto a Reggio Calabria, quindi non ero mai stato in questa regione, in due anni e mezzo ne ho apprezzato i modi e i costumi, ma soprattutto anche la calda accoglienza delle persone di questa regione. È chiaro che ne uscirò, come ha detto lei, con una doppia lacrima, quindi sia con la lacrima di arrivo e con la lacrima di partenza, però a questo punto, un po' come nel nostro lavoro, il nostro lavoro che è un po' ramingo sul territorio nazionale, è un'altra esperienza che porterò nel mio cuore, ma soprattutto un'esperienza che secondo me sarà molto utile nel nuovo incarico, un incarico complicato che però viene dopo un incarico che anche in provincia di Reggio Calabria non è stato semplice perché si tratta di un comando che ha ben 500 unità al suo interno, quindi stiamo parlando di un comando importante anche a livello nazionale, quindi questa complessità sicuramente mi servirà nella nuova esperienza che mi accingo a fare.